Marina di Gioiosa Ionica e molti imprenditori e agenzie della zona si sono adoperate per il corretto riciclo e la corretta sensibilizzazione sul riciclo stesso. Infatti una scatola di cartone può nascondere una storia incredibile quando viene separata dai rifiuti e riciclata. Può rinascere in mille forme diverse trasformandosi in imballaggi per prodotti che usiamo quotidianamente come pasta, pennarelli, giochi, carta igienica, pizza, detergenti, dolci, scarpe, pane ma anche in notizie e cultura. La nostra raccolta differenziata è il gesto che dà il via ad un ciclo virtuoso di cui beneficia non solo l'ambiente ma anche la società nel suo complesso. In occasione della quarta edizione della Paper Week dal 9 al 12 aprile infatti torna Riciclo Aperto, lo storico evento organizzato da Comieco che offre l'opportunità di visitare uno degli oltre 100 luoghi in tutta Italia tra musei tematici ma soprattutto cartiere, aziende cartotecniche e impianti di recupero che ogni giorno lavorano in modo sinergico insieme a Comieco stessa per ridare nuova vita a carta, cartone e cartoncino correttamente differenziati con 20 edizioni in presenza e due online. L'iniziativa ha già coinvolto oltre 320.000 persone tra studenti e docenti un'esperienza che, sia dal vivo sia online, permette di sfatare miti comuni e valorizzare l'importanza del contributo individuale alla raccolta differenziata di carta e cartone elemento chiave dell'economia circolare. L'iniziativa ovviamente è stata dedicata alla sensibilizzazione delle fasce più giovani soprattutto studenti e infatti è naturalmente gratuita e aperta alle classi della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. Oggi qui a Circular Factory si tiene un'iniziativa che contemporaneamente sta avvenendo in tutta Italia la Paper Week, la settimana della carta, nella quale le scolaresche di tutta Italia e quindi in questo caso del nostro territorio sono state invitate a visitare gli impianti dove la carta viene lavorata per essere riportata a nuova vita e quindi avere l'opportunità di conoscere dal vivo qual è il sistema di recupero di questa carta avere delle indicazioni su come fare bene la raccolta differenziata in maniera tale che venga tutto perfetto e il recupero sia fatto come deve essere fatto. È una cosa molto importante perché si hanno numerosi vantaggi ovviamente di natura ambientale, questo è chiaro perché vuol dire avere delle città più pulite si hanno dei vantaggi sull'economia perché recuperare un materiale così importante come la carta è fondamentale per spendere meno e per tutelare un po' anche le piantumazioni degli alberi che nel caso della carta riciclata vengono piantumate delle foreste sostenibili in tutta Europa che servono proprio per aggiungere della cellulosa vergine alla carta che viene recuperata e in questo modo quindi anziché abbattere degli alberi nei nostri boschi che sono molto importanti per il nostro pianeta abbiamo un aumento di forestazione che appunto in tutta Europa equivale più o meno alla grandezza di 4.000 campi da calcio nel ciclo di un anno. L'impianto ha aderito all'iniziativa lanciata da Comieco, il Consorzio nazionale per il riciclo degli imballaggi in cellulosa è un'iniziativa di sensibilizzazione ambientale che si svolge in tutta Italia a cui hanno aderito circa 120 impianti di trattamento, industrie cartotecniche e musei ed è prevista la partecipazione di circa 14.000 studenti. L'obiettivo è quello di far comprendere loro l'importanza del riciclo e di ciò che nasce attraverso il riciclo di carta e cartone e di quelli che sono i benefici appunto per l'ambiente.